Era latitante in Brasile, mentre a Catania scattavano le manette per 109 affiliati del clan Laudani, nell'ambito del blitz vicere. Il trentenne Salvatore Michael Costantino è stato rintracciato ad Amsterdam, da Carabinieri Interpol, appena asceso da un volo proveniente da Rio de Janeiro. Accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, Costantino è il figlio del più famoso Giovanni, detto Nucciu Cannaleri. Entrambi, secondo la procura etnea, che ha avviato le indagini in un arco temporale di 4 anni, dal 2010 in poi, sarebbero inseriti nell'organizzazione mafiosa e in particolare nel gruppo di San Giovanni e la Punta. Intanto ieri il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Nino Puglia, l'imprenditore giarrese di 46 anni, anche lui coinvolto nel blitz. Secondo gli investigatori, la carriera artistica dell'uomo, noto negli ambienti della movida catanese e taorminese come DJ e organizzatore di eventi, sarebbe legata agli interessi del clan de Mussi Ficurini, abbastanza da accusarlo di concorso esterno in associazione mafiosa.